PvP, PvP da tutte le parti, non se ne può più. Promsoftware ci ha ascoltato, sapeva che ci stavamo lamentando della patch che manca ormai da un sacco di tempo e cosa fa? Oggi fa uscire la patch 1.10, che non fa assolutamente niente, ma lo fa molto bene. Tu, come me, hai aspettato un casino di tempo per vedere risolvere un sacco di problematiche dedicate al PvP. Esatto, hai sentito bene, dedicate al PvP. Perché di PvE in questa patch c'è veramente poco. Ma qualcosa c'è. Allora, per quanto riguarda il PvE abbiamo degli aggiustamenti, in pratica dei fix per quello che riguardano i danni critici principalmente. Naturalmente abbiamo il danno da colpo critico aumentato su un singolo colpo, diminuito il tempo di recupero dopo che un colpo critico ha mancato il bersaglio e poi un aumento del danno da posa, quindi quello da equilibrio, in questo caso tradotto in italiano malamente, ragazzi, degli attacchi che si verificano dopo che si è mancato un colpo critico. Quindi tutto quello che è successivo a un danno critico c'è fatto, sostanzialmente. Abbiamo delle correzioni dei bug. In pratica ora hanno risistemato un attimino le cose con le skill che in pratica interrompevano i danni o ci impedivano di fare danni una volta che avevamo dei buff addosso. Tutta questa parte dovrebbe essere risolta, a quanto pare, e in più hanno corretto alcuni testi in alcune lingue senza farci sapere quali e dove. Passiamo ora al pvp. Ha aumentato il danno da equilibrio, quindi il danno da posa, di tutte le armi e di alcuni incantesimi e incantamenti. Ecco, io qua, quando mi dicono alcuni, cioè mi salgono i neri coltelli perché non so su cosa hai fatto la modifica. Ci vuole tanto a scrivermi l'elenco delle cose, questa sì, questa no? Almeno si capisce che cavolo hai fatto. Passatemi gli errori, ragazzi, a un video che sto facendo di corso. Ovviamente è incantesimi e stregonerie e non incantesimi e incantamenti. Lo so, non vi arrabbiate. Comunque, per riassumervi il mio sommo disagio, nel pvp hanno anche corretto l'angolo dei colpi perché non si sa mai che, mannaggia, non sono fedelmente riproducibili rispetto a quello che stai facendo. Ma nel pv continuiamo a tenerci problemi. Una cosa importante c'è, però. Hanno ridotto la finestra di invulnerabilità quando si usa passo del limiere che effettivamente ti rende invisibile e immune per un casino. Ora, è un pochettino meno, ma niente di esagerato. E tristemente è tutto qui. Non c'è nient'altro da dire su questa patch. Dobbiamo provare le varie farm, dovremo provare diverse build e dobbiamo capire se effettivamente il cambio sui danni critici è così rilevante da trasformare magari delle build che utilizziamo in qualcos'altro incentrando tutto quello che facciamo sul danno critico. Ci saranno dei test, ci saranno delle prove, tu continua a seguirci perché sennò te li perdi e, boh, cioè quindi iscriviti al canale e, ciao, fammi sapere qua sotto cosa ne pensi di questa incredibile patch. Ciao. Cioè, ma capisci? Tutto sto bordello, tutta questa attesa e poi mi hanno fatto cose incredibili a tutte le pose più belle dell'arcobalero, del pvp e sul pvp, niente, qualche piccola correzione, mi hanno messo un po' più di danno critico. Wow! Brava From!